amici bentornati su skyrim siamo sempre nella tomba di ingol allora prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che si sono uniti al canale grazie mille per i like le visualizzazioni eccetera i complimenti e saluto in particolare stick che me la chiesto e ci teneva e poi chi ha commentato mi ricordo sandra pamela e berna milky se non sbaglio dico cazzate poi correggetemi e niente insomma sono contento sta crescendo un po il canale ma andiamo avanti torniamo nel nel mondo di skyrim già ho fatto la cazzata perché non ho guardato allora qui come al solito non si vede un cazzo l'ultima la farfalla mi sembrava forse così oh yes sono sempre le orb qui a accompagnare al viaggio qui è uno di quei quelle specie di ombre ho aperto la porta no bene stato ucciso però non ho capito quel pulsante si vede niente con sta luce gemma di meridio gemma di meridio ascolta ascoltami e obbedisci una malvagia oscurità è penetrata nel mio tempio un'oscurità che tu distruggerai speriamo riporta la mia fonte di luce al monte kilgret e io farò di te il messaggero della mia luce purificatrice frangi alba trovo la fonte di luce di meridia e portalo al monte kilgret monte antor è stato di meridia non l'avevamo ancora trovata vediamo un'occhiata però pulsante chissà cosa serve un 250 c'è anche un baule quindi strano non se ne vedono pulsante non fa niente forse prima va portato forse prima va portato l'ambaradan sul monte poi c'è da tornare qui strano però anche perché quella lì in teoria dovrebbe essere un'altra uscita la brelina tra l'altro non ha partecipato ombra d'ingol no ragazzi perché qua maniglia non ne vedo elmo d'ingol ho preso 8 vabbè proviamo a tornare indietro a fare la missione poi vediamo cosa succede come mai l'ho attivata lo stesso mi ricordo più qua dove si esce fa freddo qui dentro fa freddo proviamo un po' per scaldarci allora adesso andiamo direttamente dalle parti del santuario vediamo un po' di cosa si tratta forse è l'ultimo dei santuari quel cavallino la brelina dov'è? andata a litigare con qualcuno in giro allora allora proviamo da qui caverna del teschio di lupo dov'è finita la brelina? perché non c'è più? ma c'è anche un capanno se la portata di vado a scoprirlo brelina brelina adesso è finita dai che ce la fai? forza 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 sono andati a infilare in un post non so se non usciamo eh, i soliti bug no, no, no per non saperne leggere né scrivere mentre sali o cadi adesso si diciamo così, vado al santuario poi lì passeremo più avanti quando non c'è, non c'è la Brevin chissà che fine ha fatto preoccupato però la missione di ritorno all'accademia non l'ha data, quindi guarda il mio tempio mi rovina è tutta la sostanza dei mortali la loro maestria e i loro cuori se non mi amano come posso fargli arrivare il mio amore eh, non lo so riportami la mia fonte di luce in modo che io possa guidarti verso il tuo destino oh, sto volando è ora che la mia luce torni a splendere su Skyrim ma il simbolo della mia verità giace sepolto nelle rovine di quello che era il mio grande tempio e che ora è stato corrotto da un'oscurità profana che vaga al suo interno ma il Corani il negromante profana il mio santuario con abbietta corruzione costringendo le anime perdute a causa di questa guerra eseguire i suoi ordini come se non bastasse usa il potere conservato nel mio manufatto per alimentare le sue malefatte ti ho portato qui mortale affinché tu sia il mio campione entrerai nel mio tempio recupererai il mio manufatto e distruggerai il profanatore va bene va bene va bene va bene va bene che lo farai te l'ho ordinato ora va da di recuperare il manufatto e distruggere Malcoran Malcoran ha fatto sigillare le porte ma questo è il mio tempio e obbedisce ai miei ordini invierò un raggio di luce laggiù guidalo attraverso il mio tempio per aprire le porte va bene va bene va bene capo mi ha portato in alto il tempio è qui sotto sì Malcoran mi sa è un nome da 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 mascherina con l'impressione lì però senza la brailina non mi piace questo stare qua per niente speriamo spunti da un momento all'altro mi ricordo neanche lì dove l'ho lasciata non c'è non c'è 50 100 100 un po' di urne intanto c'è un fumo nero 100 100 vediamo cosa nasconde questa stanza dai ma giusto la leva per aprire la porta di là qui c'è un baule nascosto un'altra parte c'è un sacco di soldi qui eh proviamo prima a tornare indietro vediamo cosa c'è di qua ah c'è un baule di caspa da nord saranno dei draurg o delle ombre non c'è non c'è pini d'oro pini d'oro ho scorrere una pietra ma adesso ha aperto la porta figata questo tempio abbastanza sinistro queste ombre mandiamo subito l'esercito e ci nascondiamo non sembrano molto forti bravi ragazzi bravi siete forti delle bestie c'è un altro di stallo vediamo cosa succede intanto di là e apro la porta di là però prima c'era quell'altra grazie calici andiamo prima a vedere giù qua ancora ombre un attimo la mappa quindi forse prima è il caso di andare di cuore vedere cosa c'è stanza vuota così avete fatto un bel lavoro di là sì devo salvare perché non ho ancora nemmeno un salvataggio ho proprio voglia di morire ripartuto bene c'è nessuno qui la 80 ho fatto su un sacco di grano queste signore sono tutti in bersamazione non mi interessano spazzoliamo l'urna una passione di cura senza piacere qui sento altre ombre grandi grandi ormai siete una sicurezza ancora ombre sopra ahia ma becchia eh ma arrivano arrivano i signori aiuto cantato l'arcano non mi interessa perché allora c'era anche di là esatto la dovevo andare dopo per vediamo se qui dentro c'è la leva per aprire la porta di lì in giù mezzarola ok esatto meccanismi strani qua dietro andiamo dall'altra parte vediamo proseguire ecco cerco di install e attivare dunque ero salito di lì c'era la scaralita salto pieno di cadaveri profanati lo stregone sta facendo un disastro ma non passerà non passerà allora siamo usciti fuori dove sarà un attimo baule vantanello collana bracciali nemici del brandire maggiore ho poco spazio devo ancora andare a vendere della rogo rovine di kilkrit niente prelin ancora niente prelin niente prelin la metolce prelin la mia dolce brelin che fine avrà fatto sto più rilegato addirittura tantesimi silenziosi ma queste ombre puoi morire ancora di là litigare puoi morire sto ritornando furtivo perché c'è ancora in giro qualcuno una mano su un piatto la lombra in alto forse quando scatto che si avvicina si avvicina si avvicina sopra non riesco a mangarlo scusate un attimo io sono arrivato da qui c'era però una porta giù vediamo se proseguire dopo di qui oppure no qui c'è il peristallo qualche altra scala per salire per passare dalla porta sotto e poi mi ritroverò sì perché qua un'altra scala non c'è per andare avanti di qua a questo serve la chiave quindi cosa devo fare sarà qualche maniglia ah ecco c'è la stanza di qua ehi tu fai passare dai oro 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 allora qui è il passaggio per tornare di là quindi prima abbiamo notato la resistenza ah qui c'è un'ombra di rovinati non mi interessa un baule sì qui c'è qualche meccanismo strano che aia esatto un bel caminetto altro paura allora Visto che prendo i libri, che valgono 50 e pesano 1, tanto vale prendere anche un po' di pozione. Vedo la chiave. Montons. Monta come di Kilcrit. Ecco la porta però richiede la chiave. Dove è la chiave? Sto un po' perdendo eh. Allora sono entrato di qui. Serve la chiave, serve la chiave, serve la chiave. Se l'avevo addosso qualche ombra. Strano perché di solito si trovano abbastanza facilmente le chiave eh. Il percorso è piuttosto intuitivo. Invece stavolta mi sta fregando. Questa cosa è la chiave? Un po' di voce e un po' di velo. E questo. senti qualcosa a muoversi, chissà, se non hanno fatto le cose per bene, con i piedistalli, questa non l'avevo vista ad esempio, qui con l'avevo abbiamo fermato delle lame, cazzo, dov'è la chiave? No, 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 no... ho mancato qualche passaggio sicuramente qui non c'è niente tocca tornare indietro e vedere se ho fatto bene tutto con gli altri piedistagli terrazza di kilkrit maledizione maledizione il collegamento ci sono tutti sembra anche qualcosa cazzo mancava solo questo adesso è bloccato provo a tornare indietro velocemente vediamo cosa succede adesso ho fatto scattare ancora qui ecco c'è del mare mi hanno fatto andare la leva quant'altro non interessa proviamo adesso ho fatto scattare fino in fondo anche quel piedistallo dove sarà la chiave non mi va ad andare a sbirciare dove non c'era non c'è dobbiamo tornare magari facendo un altro giro scherime così c'è sempre da far due giro Brelin dove sei Brelin mi manca magari delle maniglie in giro qualcosa forse la chiave era proprio spero di no nell'altro nel baule quello che abbiamo lasciato di là speriamo di solito la soluzione è sempre quella più che cosa succede che cosa succede che cosa succede ma viene Alla Cos'è che fa muovere? Sembra la pietra No, la porta non l'ha aperta Mi scoccia, eh Non si è bloccato qui Tutte varie cose l'ho vista Perché le chiavi non c'è nessuna L'ombra addosso non c'è là Non c'è niente La manazza Forziere vuoto Manazza Perfetto Non c'è nessuna No c'è nessuna strumenti di imbalsamazione per forza di cose non devo sbirciare proprio non riesco a capire maniglie in giro, cose, leve, non ne vedo più è pure così strano ah vabbè era tanculo ero convinto di averlo fatto invece non l'avevo fatto, che asino che asino quando faccio queste cose non so se si è aperta anche la porta sotto no scusate adesso ho perso un sacco di tempo ma come si dice tutto in diretta picchiamoci tutto l'oro che c'è in giro bene bene altri 50 allora io sono arrivato da qui non so la non so la 85 male non fanno che testone cazzo ero convinto di averlo sbloccato prima invece no ecco adesso si è aperta la porta sotto ah si eccola la saltiamo adesso ci sarà il cattivone il catacombo di kilkrit eh il video verrà magari un po' più lungo del solito però vorrei arrivare alla fine in questo episodio se possibile adesso vediamo ammattate o ce n'erano di di morti in giro idem di bauli di urne salvo bene guarda qua guarda qua che che ritrovo forza ragazzi rimango nell'ombra sono tanti eh cazzo c'è la buffera la buffera eh infatti è potente è una potenza metà energia forte quello stregone però contro i miei dremora infiniti non può niente aia aia pieno di cadavere 100 un setto non l'hanno ancora fatto fuori eh è fatta il corrottore è stato tolto di mezzo prendi frangialba dal suo piedistallo un attimo eh signora prima voglio ripulire tutto l'ambiente qua guardato guardato malamia quanta gente una strage eccolo qua malcoran bastone della tempesta di gaccia che sono pieno bastone da dare alla brelina riprendiamo una pozione della forza si dai prendiamo una pozione della forza tanto brelina sempre se si fa vedere eh cosa sta succedendo sono bloccato ok sono ancora in volo marcoran è stato distrutto skyrin non morirà così deve essere e così è grazie a te un nuovo giorno sta sorgendo e tu ne sarai l'aranto prendi la potente frangialba e scaccia con essa il male dagli angoli oscuri del mondo brandiscila il mio nome affinché la mia influenza si diffonda no dai siamo amici ormai è l'arice della certezza guidi i tuoi passi frangialba e la brelina non c'è va bene ragazzi io la finirei qui spero di trovare la brelina nel frattempo adesso andrò andrò a vendere un po' di cose nei negozi così da far spazio e poi però vorrei ripartire da questa zona qui tutto qua intorno a Windhelm in modo da farla tutta e poi pian e pian ci spostiamo non so se spostarmi prima di qua oppure fare l'interno perché c'è ancora tanta roba da scoprire vabbè comunque la prossima volta decideremo un po' cosa fare vi ringrazio ancora vi saluto e spero di trovarvi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti